E' davvero convinto di aver fatto qualcosa di speciale. Allo stato attuale delle cose, con la tecnologia di cui disponiamo ormai da tanti anni, era da tempo che questa cosa doveva essere fatta. Non c'è niente di eccezionale in questo, quindi il vanto di Brunetta non è nell'avere fatto il suo dovere in ritardo, fra l'altro, rispetto ai tempi e alle possibilità. E qui faccio una critica di Partisan, perché prima di loro c'erano quelli di centro-sinistra e non l'hanno fatta neanche loro, però voglio dire, non è che per questo Brunetta ha dei meriti particolari. Ci sarebbe mancato altro che con queste possibilità che ci sono, neanche non riuscire a fare neanche queste cose minime, che possono essere fatte e che possono migliorare. Certo se si crede che con questo di poter dimostrare l'eccezionalità del lavoro del governo, qui allora sbaglia e strumentalizzerebbe. Quindi sarebbe una presa di culo invece che un atto doveroso nei confronti delle persone che vivono in questo Paese e nei confronti anche di un servizio che la tecnologia consente di migliorare in questo modo. Sì, certo. Grazie. 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 Grazie.